Nell'altro video abbiamo detto che questi sono semitoni, note a distanza di un semitono. Adesso parliamo dei diesis e i bemolli. Il diesis innalza la nota di un semitono, il bemolle abbassa la nota di un semitono. Se questo è un fa e questo è un sol, salendo possiamo dire fa, fa diesis, sol. Scendendo possiamo dire sol, sol bemolle, fa. Se questo è un sol e questo è un la, possiamo dire sol, sol diesis, la. Scendendo possiamo dire la, la bemolle, sol. Adesso non è solo salendo e scendendo, è più complicata di così. Ma perché si usano a volte i diesis e a volte i bemolli è troppo lungo da dire in un video così corto.